Com'è stato un saluto a tutti e ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi a questa parte, attivate la campanella, un canale di breaking news soprattutto sul Milan, oggi la giornata della conferenza di Zlatan Ivarajmovic che ha lasciato sicuramente indicazioni, curioso di capire chi sono gli italiani nella lista della spesa del mercato rosso-nero, io penso, mi viene in mente buongiorno, ma è l'unico e mi sembra anche poco fattibile stando così le cose. Dopodiché vediamo che cosa succede, allora, aggiornamento di mercato, flash concentrato in due minutini, su Joshua Zirze si prosegue a trattare e il Milan ha fretta di chiudere anche perché c'è l'Europeo, quindi previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Attenzione perché secondo la stampa inglese lo United e l'Arsenal, che secondo me non c'è più sul giocatore, sono stati informati del fatto che il giocatore chiuderà con il Milan nelle prossime ore e questa può essere una notizia molto 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 importante. Tutto va in quella direzione, ma va trovata poi la fumata bianca, la sintesi tra richiesta delle commissioni e offerta per quanto riguarda il Milan. Milan che è attivo anche sul terzino di destra, in questo momento rialzo le quotazioni di Emerson Royal, giocatore brasiliano del Tottenham, che in questo momento sembra molto più avanti rispetto agli altri, ha scavalcato di molto Matic Cash e anche Thiago Santos del Lille, con il Milan che vuole comunque mettere un po' più di esperienza. Il nome nuovo per il quale il Milan si sta muovendo e si è già mosso è quello di Weffer, giocatore del Feyenoord, 1-88, molto forte fisicamente ma anche qualitativo, tutto fare, centrocampista olandese del Feyenoord, numero di maglia 20 piede destro, che ha fatto un'ottima stagione in redivise e sembra pronto per il salto di qualità. Poche operazioni ma mirate, di fatto però come titolari si restano tutti, come oggi ha detto Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante in Paul Zirze, il terzino destro in Paul Emerson Royal e il centrocampista più Bagarre, c'è Fofana, c'è Weffer e poi il difensore con diverse idee, ma sarà una cosa un po' più avanti con il tempo. Questo è l'aggiornamento fino a questo momento allo stato dell'arte, pronti a intervenire qualora ci fossero altre novità. In descrizione importante, United e Arsenal hanno informati dell'accordo in mined tra Milan e Zirze. Incrociamo le dita e speriamo che sia così. Un abbraccio, iscrivetevi anche voi.